Radio Radicale, il Presidente dei Deputati della Lega, Riccardo Molinari, ha rilasciato delle dichiarazioni in sala stampa a Montecitorio sulle polemiche che hanno riguardato la vicenda di Rami, il giovane ragazzo egiziano che ha sventato la strage di San Donato milanese. Molinari ha ribadito che la Lega, senza mai citare Rami, non è interessata allo Ius Soli e ha ringraziato le forze dell'ordine. Ecco le sue parole.